I genitori e gli studenti del liceo delfico a pochi giorni dalle riprese delle lezioni scolastiche mattutine negli istituti Pascale e Forti nella zona di Via Cona evidenziano confermezza disagi ai trasporti. Nello specifico i genitori denunciano studenti in strada alla ricerca dell'autobus giusto, anche alla luce di aumenti e corse bis, negli orari di entrata e uscita il caos rimane. Per gli studenti provenienti da aree extraurbane e quindi da comuni limitrofi e che si fermano alla fermata dei Tigli in centro, arrivare alla Cona prevede l'utilizzo di un mezzo urbano della Staur e quindi un sovrapprezzo all'abbonamento già in uso con la tua. Inoltre, proprio in questi giorni i controllori, come testimoniato dai genitori, non si sono mostrati flessibili, alla luce del disagio che gli studenti stanno affrontando nei primi giorni di ripresa delle lezioni mattutine. La tua e gli altri operatori tipo Gasper e gli altri sono venuti all'incontro e hanno garantito che i loro abbonamenti non vanno rinnovati perché facevano fermare anche davanti al Forti, quindi hanno aggiunto delle fermate in più, perché il Forti prima non era prevista come fermata, hanno aggiunto la fermata in più, deliberata anche dalla regione e quindi l'abbonamento per chi viene all'extraurbano, chi viene da fuori non deve rimanere sull'autobus e scendere di fronte al Forti. Questo è quello che ha garantito la tua. Abbiamo verificato i primi giorni che succedeva, l'unico problema è che forse gli autobus dovrebbero fermarsi anche per il ritorno alle due, dove si fermano la mattina, non nella corsia opposta perché gli studenti rimangono in mezzo al traffico, però la tua ha garantito degli operatori della loro vita che stavano lì a guidare i ragazzi, a spiegare come funzionava. Quindi al momento noi non ci risultano criticità in questo senso. Comunque monitoriamo, stiamo monitorando, andiamo lì tutti i giorni, anche i colleghi, gli insegnanti sono lì a vedere e cercheremo di risolvere l'unico problema. Stiamo cercando di fare un altro pomeriggio pure per l'extraurbano, visto che arrivare i pomeriggiani non è sufficiente solo il venerdì alle 4, ma anche altre giornate. Su questo stiamo lavorando perché ci vogliono dei permessi e delle concessioni.